Partita finale ed è Ceola che si porta in testa seguito da Puziol, poi De Angelis, poi Cobbato. Ancora Ceola, Puziol, De Angelis, poi Cobbato. Eccoli ora sul rettilineo posto a quello non vivo, dove l'atleta Andrea Loni e De Bosica si porta in seconda posizione. Ceola, poi De Angelis, campana, ultimo giro, con Ceola ancora in testa, poi De Angelis, Cobbato. Che si porta in testa nuova, De Angelis, ceola, 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 De Angelis, Cobbato. Grazie mille, grazie mille, grazie mille, grazie mille, grazie mille, grazie mille, grazie mille.